Ragazzi buongiorno a tutti, bentrovati. Stamattina sul mio canale Telegram, quello su cui pubblico un contenuto motivazionale se vogliamo, ma semplicemente degli spunti di riflessione su cui ciascuno di noi può pensare, può riflettere, ho pubblicato un contenuto che riguarda la gratitudine, l'importanza di ringraziare, l'importanza di dire grazie. Perché stamattina io sono per esempio arrivato a Parga, questa bellissima città, paesino, greco, sul mare che immagino molti di voi conoscano o del quale abbiano quantomeno sentito parlare, un posto bellissimo. Mi sono seduto qui al bar appena sceso dalla barca per prendere un club sandwich e un succo d'arancia alla Santé e mi si sono riempiti gli occhi di lacrime per la bellezza e per la gratitudine che provo per poter essere qui ora a godere di questa meraviglia, di questo spettacolo, di questo viaggio, di questa vacanza. Impariamo a ringraziare sempre, anche per le cose che riteniamo ovvie, per le cose che riteniamo scontate, perché grazie resta la parola più potente di tutte e ti attirerà ancora più motivi per dover poi ringraziare. Per cui praticate la gratitudine senza risparmio, praticatela nella maniera più opulenta che potete. Buona giornata a tutti.